Ha stato presentato anche un altro importante servizio al paziente, ovvero il libro parlato. Grazie ai Lions, per la prima volta in un ospedale italiano, vengono messi a disposizione una ventina di tablet dotati di oltre 9.000 titoli resi in audiolibro per permettere ai ricoverati non vedenti o impossibilitati a leggere di godere comunque di un buon libro. In Italia abbiamo 72 milioni di giornate di ricovero e nel mondo contiamo più di 300 milioni di persone che hanno delle difficoltà visive, ma chi è ricoverato in un ospedale, chi è in una casa di ricovero, chi è in una casa di riposo e che cerca conforto nella lettura, oggi gratuitamente può trovare nel libro parlato una risposta.